Ma tu hai visto che aggiornamento che hanno messo su PES 2017? Io non ce la posso fare, non ce la posso fare Agenti Champions? Ma non solo ragazzi, ci stanno delle cose che voi non potete immaginare! Mamma mia, senti, famo una cosa, davo la sigla così ne parlavo subito Velocissimi, vai vai vai! Mamma mia, so tutto un fremito, so tutto un fremito Ben ritrovati, scusate, sto quasi per morire Sembrava la voce di una femminuccia Eh lo so, tanto tagliato un cello No no no, sta tutto a posto Siamo tornati su PES 2017, ragazzi miei hanno messo UEFA Champions League, Stars R16, Totti 2016 Ma prima, competizioni online e offline, di velocemente quello che regalano Molto semplicemente, quella online, partita secca, un agente Quello offline, quattro partite da vincere, un nuovo agente, sempre Champions Andate a guardare gli allenatori perché c'è sta Luis Enrique, perché c'è sta Chiarto C'è stato tutto, ce ne stavano tanti Andatevi a guardare tutto La cosa più importante Vai sulla gente speciale Ragazzi miei, voi non immaginate Allora Facciamo una piccola premessa Ragazzi abbiamo spacchettato il finimondo con l'agente e il classico Eros Ovviamente abbiamo dato la priorità a questo video Ma se volete, sono 4 o 5 i video se non mi sbaglio Sì, mi sembrano 4 o 5 Account mio, account suo, account mio Abbiamo fatto un macello Se li volete ragazzi 500 like su questo video E piano piano li pubblicheremo tutti Esatto Oggi era doveroso, doveroso aggiungerei Andare su questo agente Ci abbiamo ancora 3 Il classico Eros Non mi chiedete perché Barcellona Legends Ragazzi Faglielo vedere Faglielo vedere Facciamo velocemente Questo qua, questo Barcellona Legends Ce l'hanno appena regalato Uno solo Uno solo Insieme a due agenti del Il classico Eros Ma sappiamo perché ce l'hanno regalato E insieme a 50.000 GP Quindi dovreste avere pure voi tutti questi premi Perché noi ne siamo migliori dell'altro No, 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 no Quello è per tutti Credo proprio di sì De conseguenza ragazzi miei Qua c'è sta il mondo Solo leggende Solo leggende Tutto, tutto, tutto Ragazzi noi non diciamo quello che abbiamo trovato Negli spacchettamenti che abbiamo fatto No Beh, seguiteci perché non potete immaginare Detto questo Dai, indietro Che c'è sta UEFA Champions League Stars ragazzi Anche gli agenti della Champions Mi facciamo vedere al volo ragazzi C'è sta pure qua Tutto, tutto quello che volete Tutto, tutto Tutto quello che vi fare De conseguenza Torna indietro E poi c'è sta ovviamente Quello più il Toti Nomini Praticamente è lo stesso agente De quello sopra Però ci stanno solo palloni oro E palloni neri Quanti spacchettamenti ci facciamo oggi? Cinque O tre e tre Tre e tre Tre e tre Vai Comincia col classico Heroes Ah Cominciamo su Vai Così? Immediatamente Mamma mia Stava di paga con GP Non si paga con GP Vediamo che cosa ci esce fuori Mi raccomando che questa è la nostra terza squadra Non lo abbiamo detto Va bene che oro Va bene che oro Va bene che oro Se fare le corzette Miglioriamo la nostra terza squadra Gli zompetti Le pecorine E Davins E Davins Questo mi piace E' una cifra Mamma mia Uno dei nostri giocatori preferiti Partiamo col botto Partiamo benissimo ragazzi Oh Potenza di E non me dai tempo No non dallo tempo Perché voglio spacchettare Voglio spacchettare Voglio vedere So curioso Spacchetta allora Che cazzo le devo dire Ancora E' pallone nero E' fallo scattivo Che ci serve E' fallo scattivo Chiesto cesso E' dos Giovanni Dos Santos No non è lui E' fratello Va bene 83 Questo fa schifo Aggiungermi in prima In club Fatti la terza Spacchettazzata Aggiungerei E' quale faccio Sempre il classico Poi ci penso Io non ti preoccupare Poi ripulisco io la zona Schiaccia quando te pari E' fallo E' fallo E' fallo E' oro E' oro Questa potrebbe essere Un'altra leggenda Io vorrei The bird The bird The bird Chi è questo Sto cazzo Albiol E' Raul Albiol Che comunque Questa squadra è buono Va bene Facciamo un'altra premessa E' l'ottantesima Passa contro Passa contro Nel challenge Facciamo su Sbaglio sempre Eh su questo qua No Ti stai a sbaglia pure tu Con questa facciamo La Passa contro Che se ricordi Cioè ho detto Passa controller challenge Ma stava pensato A bollare E' l'emozione E' l'emozione Lasciamo link In descrizione Ragazzi Andate a vedere La passa controller challenge Presto arriverà Un nuovissimo Episodio Senti Tfz cedeva A questo me lo sparo dopo Per il momento Ragazzi miei Questo me lo sparo dopo Facciamo uno di questo E quei due Quindi Maffa mia C'è un po' così affetto Champions League Ragazzi ma avete visto I GP Potremmo fare Un nuovo spacchettamento Se arrivano 500 like Su questo video Nel frattempo Schiaccio Oddio Oddio Vaffanculo Del Leicester Eh lo so Ganese 24 1,78 E' un ottimo giocatore Però se capitava nero oro Mi sa che era molto Nero No nero è capitato No non è capitato Cazzo serve Come no Ah è nero il giocatore Non è pallone nero Ragazzi Allora 33 3 E quello E questa Questa Andiamo con questo No 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 Questo per ultimo C'è stato il 33% Dei pallone nero Questa è una leggenda Vabbè dai Allora Andiamo con questo Pagago GP Conferma Dai Alla prossima Se divertivo Uh Sono tutti oro Non ci sta nè L'hai chiamato Eh Oh A E I U E pallone oro Che cazzo Ho schiacciato una merda Quale forzetta almeno Sì Gli zompetti Uh Questa dimensione è buono Chi è Le specorine Eccole Quelle che mi piacciono a me Che cazzo E ci menes Ah Dalla tale Dico Mi coglioni Questo è buono Non è male Perché a livello di velocità È buono Ma questo a livello di fisico Cioè c'è Fisico e difesa Lo appizza male Veramente 21 anni Passaggio e dribbling pure C'è un'ottima tecnica De base Bello Bello Non ci possiamo lamentare 975 Spirito combattivo E marcatore Fortissimo Li mortacci Buono Aggiungiamo ai membri MyClub ragazzi Stiamo per spacchettare Una leggenda Assicurata Mamma mia Mamma mia Mi sento male Mi sento male Mi tremano le chiappe Oh 77.000 GP Mo ce ne accumuliamo Almeno un altro di 30.000 23.000 Arriviamo a 100 ragazzi Ripetiamo 500 like su questo video Facciamo subito Un nuovo spacchettamento Vado al volo Mi temo l'occhio Guarda se è nero Io mi sbrago per terra Ma quando con i diri Ci stanno Sono andato su un argento Sono andato su un argento Sbappanculo Cazzo Sbappanculo Cazzo Le corsi Si è vero È certo E Richelme Me lo sento Che Richelme Me lo sento No Ma che è Inzaghi Oddio mi sembrava Inzaghi Littmannen Mi sembrava Inzaghi Ho detto che cazzo C'è sta a fare Inzaghi Nelle leggende del Barcellona Bello bello Pure Littmannen Va bene Buono buono Ci può andare un po' meglio Ce la faccio più a parlare Io mi sento un po' Fiacco Abbiamo eccitato troppo la situazione Ragazzi Se volete un nuovo video Ve lo ripetiamo Questa settimana Ci stanno degli agenti Che spacchettà Questa settimana Non spacchettà Questa settimana È un crimine È un crimine Contro l'umanità Quindi Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Vi salutiamo Vi diamo appuntamento Alla prossima E c'è sistema Ma la squadra Esatto Ciao raga